Era stato sottoposto a misure restrittive per altri reati, invece se ne andava in giro a scassinare l'automobile. In manette è finito un giovane di 21 anni originario della provincia di Reggio Emilia, ma da tempo residente a Bellare e Giamarina. L'accusa è quella di tentato furto aggravato. Il ragazzo è stato arrestato la scorsa notte dai crevinieri della stazione di Viserba, colto in flagrante. Era già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi penali ed attualmente è sottoposto a misura limitativa della libertà personale dopo aver infranto il finestrino del lato del guidatore di un'opelastra parcheggiata a Torpedrera. Si è introdotta all'interno e non riuscendo a metterla in funzione ha ispezionato il vano portoggetti e portadocumenti alla ricerca di oggetti di valore, poi ha abbandonato il mezzo allontanandosi a piedi. Il proprietario l'ha inseguito a distanza dando telefonicamente le indicazioni sulla sua posizione alla centrale operativa del comando provinciale dei Rimini. I crevinieri lo hanno bloccato in una via adiacente a quella del tentato furto. Condotto in caserma, l'uomo non ha potuto fare altro che ammettere quanto contestato. Il 21enne è stato sottoposto poi a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di una serie di arnesi idonei allo scasso che sono stati sottoposti a sequestro. Processato per direttissimo di fronte all'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto ed applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.